Ma dov'è? Eh? Qua Alessandro Manzo cameraman per l'altezza dichiarato Per Youtube me lo metti? Come lo intitoliamo? Come lo intitoliamo le tube che mi appella il baron Lino è il giorno del matrimonio Non è il suo però Eccolo qua Tanto per cambiare Tanto per cambiare Tanto per cambiare Tanto per cambiare Qua era la spunza che non mi chiusa Non la vedi la spunza Non stava forte ma me Non stava forte Non stava forte Sto facendo forte Ma dov'è? Va bene Vabbè spegniamo che non c'è Si? Come lo intitoliamo Come lo intitoliamo Come lo intitoliamo Come lo intitoliamo